Salve a tutti e benvenuti nel canale di pensioni e aggiornamenti. In un video degli scorsi giorni abbiamo annunciato che anche il pagamento delle pensioni di settembre sarà anticipato. Ebbene nelle scorse ore sono arrivate le prime bozze di calendario possibile per quanto riguarda il ritiro delle pensioni in posta scaglionato. Ovviamente ricordiamo che non si tratta di un calendario definitivo ma solo di previsioni. Vediamolo dunque insieme in questo video. Prima di visionare il video come sempre vi invito ad iscrivervi al canale e a schiacciare sulla campanella per rimanere sempre aggiornati ogni volta che sarà caricato un nuovo video sul canale. Vi invito inoltre a lasciare un mi piace in questo video per supportare il canale. Naturalmente tutto gratuito. Anche le pensioni per quanto riguarda il pagamento di settembre 2021 dovrebbero essere anticipate dato che lo stato di emergenza per il covid-19 è stato prorogato fino a fine anno ovvero il 31 dicembre 2021. Comunque si attendono indicazioni ufficiali da parte della protezione civile. Le pensioni potrebbero essere pagate dunque anticipatamente dalla fine d'agosto quelle incontanti relative al mese di competenza di settembre. Vediamo dunque qual è il probabile calendario. Il calendario potrebbe essere tra il 26 agosto e il primo settembre. Nello specifico lettere dalla A alla B giovedì 26 agosto, lettere dalla C alla D venerdì 27 agosto, lettere dalla E alla K sabato 28 agosto mattina, lettere dalla L alla O lunedì 30 agosto, lettere dalla P alla R martedì 31 agosto e infine lettere dalla S alla Z mercoledì 1 settembre. E anche per oggi è tutto se non l'avete già fatto vi invito nuovamente ad iscrivervi al canale e a schiacciare sulla campanella per rimanere sempre aggiornati ogni volta che sarà caricato un nuovo video sul canale. Grazie per l'attenzione al prossimo video e un saluto a tutti!